Roma, Juventus e Napoli interessate a Domenico Berardi. La Roma, alla ricerca di un esterno offensivo con le giuste caratteristiche, sta valutando vari profili nelle prime settimane del calciomercato estivo. L'ultimo nome, fatto da Sky Sport, è quello di Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo dovrebbe essere un'ambita opportunità di trasferimento non solo per i giallorossi, dato che il Sassuolo dovrà separarsene dopo la retrocessione in Serie B. Anche Juventus e Napoli sono interessate al giocatore. La sua età e il grave infortunio, non scende in campo da inizio marzo, renderebbero le condizioni di uscita più favorevoli per chiunque decidesse di bussare alla porta del Sassuolo.